Grazie Presidente. Una premessa alla illustrazione di questo ordine del giorno che riguarda ovviamente il decreto in discussione. Il decreto è il decreto sicurezza, decreto immigrazione, un nuovo decreto sicurezza che praticamente dice l'opposto del decreto sicurezza che fu approvato ad inizio legislatura. Entrambi hanno un elemento in comune, mica da poco questo elemento. L'elemento si chiama Presidente del Consiglio Conte ed un altro accessorio, questo elemento, anche questo non da poco, che si chiama Movimento 5 Stelle. In questo dibattito ho sentito anche da parte di molti colleghi della Lega ricordare questa giravolta che è stata fatta proprio dal Movimento 5 Stelle e dal Presidente del Consiglio Conte. Il contratto che fu firmato, che doveva essere poi un contratto rispettato. Quel contratto non è stato rispettato e oggi si suggella il mancato rispetto di quel contratto, perché sia il Presidente del Consiglio Conte che il Movimento 5 Stelle dicono una cosa opposta a quella che dicevano quando presentavano in conferenza stampa, con l'allora Ministro degli Interni Salvini, il decreto sicurezza prima versione. Volevo rassicurare i colleghi, in particolare della Lega, che hanno ricriminato questo mancato rispetto del contratto. Essendo pugliese so bene che a queste giravolte il Movimento 5 Stelle è abituato. No TAP, ve la ricordate, è la TAP che è conclusa con il Governo 5 Stelle, sia con il Governo giallo-verde che con quello giallo-rosso. No Ilva e il Movimento 5 Stelle addirittura ci stanno mettendo i soldi anche dello Stato perché l'Ilva resti. Mai col PD e il Governo lo hanno fatto col PD. In Puglia addirittura era mai con Emiliano e alla prima occasione utile il Movimento 5 Stelle ci ha infilato in giunta anche qualche assessore. Quindi, cari amici della Lega, di cosa vi sorprendete di questa infedeltà del Movimento 5 Stelle? Hanno persino tradito il contratto con gli elettori. Venendo a questo provvedimento, questo provvedimento nasce fondamentalmente per chiudere un patto di governo di maggioranza e dare la possibilità al PD di dire che ha azzerato, ha asfaltato le proposte che erano state invece approvate dal Governo giallo-verde. E per coprire bene questa scelta, quella cioè di cambiare la politica dell'immigrazione, si sono inserite in questo provvedimento una serie di altre predisposizioni legislative che riguardano le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis, il divieto di entrare in locali pubblici, dei pubblici esercizi, il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, insomma una serie di altre norme che ne fanno una accozzaglia poco comprensibile se non andando a ricercare questa vera ragione. Questo provvedimento, oltre che aumentare l'immigrazione clandestina con una serie di permessi di soggiorno agevolati sostanzialmente ed estendendo anche le casistiche alle possibilità di ottenere il permesso di soggiorno, costa anche di più, nonostante la clausola di invarianza dell'articolo 14 non costerà allo Stato di primo al bilancio dello Stato direttamente ma agli allegati del bilancio dello Stato cioè al bilancio dei comuni. Insomma è un decreto sul quale convintamente noi ci esprimiamo negativamente ma abbiamo presentato gli emendamenti per cercare di migliorarlo. Gli emendamenti ci sono stati bocciati e adesso abbiamo presentato gli ordini del giorno sperando di ottenere un indirizzo al Governo. Bene, quest'ordine del giorno chiede di dare giustizia ad una categoria che questo decreto subirà in particolar modo, cioè quella delle forze di polizia addette al controllo del territorio e al contrasto dell'immigrazione clandestina. Chiediamo di impegnare con quest'ordine del giorno il Governo di impegnarsi quindi al Governo di prevedere, a prevedere che la metà dei proventi che arrivano dalle sanzioni disposte dai questori, ho concluso Presidente, per il divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento sia erogata appunto in favore delle forze di polizia addette al controllo del territorio e al contrasto dell'immigrazione. Mi chiedo di parlare del deputato Vito Comencini per illustrare l'ordine del giorno numero 115. Grazie Presidente. Noi della Lega...